Amici dell'ABA, studenti non studianti, sur sun corda, cosa succede tra la prima e la seconda guerra di indipendenza? Perché la prima guerra di indipendenza è stato un fallimento mentre il secondo un successo? Beh, in questi dieci anni sono successe molte cose, diciamo tra il 49, fine della prima guerra di indipendenza, e il 59, inizio della seconda. Io individuerei questi cambiamenti soprattutto in due persone. Uno, in Francia c'è un nuovo imperatore di cui vi ho già parlato, parente alla lontana di Napoleone Bonaparte, che si chiama Luigi Napoleone, che viene conosciuto con il nome di Napoleone III, il quale vuole, per motivi suoi politici, aiutare la formazione di uno stato italiano, almeno nell'Italia del Nord. E il seconda figura importantissima è il ministro dell'agricoltura del governo piemontese, cioè Camillo Benso Conte di Cavour, che per comodità da adesso in poi chiameremo appunto Cavour. Perché questi due sono così importanti? Beh, di Napoleone III abbiamo già detto, io mi soffermerei su Cavour. Cavour era un liberale, abbiamo già spiegato la differenza tra liberali e democratici, soprattutto era a favore delle idee di libero scambio, cioè libero movimento delle merci da un paese all'altro. Solo così, egli diceva, un paese può diventare ricco e gli vuole infatti modernizzare il forte ma arretrato Piemonte con una serie di opere pubbliche, soprattutto con quella che per l'epoca era l'idea nuovissima, cioè una rete ferroviaria efficiente per trasportare le merci, dunque per favorire le industrie, ma anche per far sì che potessero circolare i prodotti agricoli. Questa idea degli scambi commerciali fu effettivamente quella che fece fare un balzo in avanti da un punto di vista economico al Piemonte. Ma Cavour è anche una volpe dal punto di vista politico. Egli ha capito che se lo Stato piemontese vuole unificare il resto dell'Italia o perlomeno del Nord Italia, come era pensato all'inizio, bisognava coinvolgere altre potenze nazionali favorevoli a questo progetto e nemiche dell'Austria. Queste due potenze erano l'Inghilterra e la Francia. Cavour individua subito una strategia. Nel 1853 era scoppiata una guerra tra Francia e Inghilterra contro la Russia. Questa guerra avvenne in Crimea, che è quella penisola che oggi appartiene alla Russia sul Mar Nero. Il Piemonte, con Cavour, mandò 15.000 uomini, soprattutto bersaglieri, a combattere a favore di Francia ed Inghilterra. Cavour aveva una idea precisa in testa. Quando arriverà il momento della pace, noi ci siederemo al tavolo dei vincitori e metteremo all'ordine del giorno la questione italiana e voglio vedere chi oserà respingere le nostre richieste. Ma il primo grande successo diplomatico di Cavour avvenne nel 1858 nella città francese di Plombière, dove egli si trovò in segreto con Napoleone III e stipulò un trattato assolutamente segreto. Il trattato di Plombière, appunto, che prevedeva che la Francia sarebbe intervenuta in difesa del regno di Sardegna, cioè del Piemonte, se questo fosse stato attaccato dall'Austria. Secondo, in caso di vittoria contro l'Austria, il regno di Sardegna avrebbe ottenuto la Lombardia e il Veneto. La Francia avrebbe ottenuto addirittura Nizza e tutta la regione della Savoia. La regione della Savoia, di cui sono originari appunto i Savoia, è questa regione che oggi è in Francia, proprio subito dopo le Alpi italiane. Ovviamente Cavour, da quel volpone che era, capì che doveva a questo punto costringere l'Austria a dichiarare guerra al Piemonte. Lo fece con tutta una serie di provocazioni, per esempio facendo manovrare lungo il confine, cioè lungo il Ticino, che all'epoca segnava il confine tra Piemonte e Lombardia, cioè tra Regno di Sardegna e Impero d'Austria, tutta una serie di truppe. Alla fine gli austriaci, non potendone più, lanciano un ultimatum al Piemonte. O vi ritirate entro pochi giorni o c'è la guerra. Ovviamente Cavour si frega le mani, non vedeva l'ora. Aprile 1859, dieci anni dopo la prima, comincia la seconda guerra d'indipendenza. Ma a differenza di quanto era accaduto nella prima, Cavour, il Piemonte, aveva in mano l'asso vincente. Qual è l'asso vincente? È l'alleanza con la Francia. La Francia infatti schiera un esercito di 200.000 uomini al fianco ai 100.000 piemontesi. In poche settimane l'esercito franco-piemontese, chiamiamolo così per comodità, sconfisse più volte gli austriaci a Montebello, a Magenta, a Palestro. Guardate sulla cartina della regione dove sono queste qua. E addirittura entra a Milano nel giugno del 1859, in soli due mesi, le vittorie diedero moltissima speranza a tutti i patrioti italiani che accorsero da ogni parte d'Italia, tra cui il più importante di tutti che vedremo, uno degli eroi del nostro risorgimento, Giuseppe Garibaldi, che guidò il suo gruppo di volontari, di 4.000 volontari chiamati i Cacciatori delle Alpi, che con il suo straordinario genio tattico e la sua grande capacità di condottiero carismatico, riuscì a infliggere agli austriaci molto più organizzati e potenti grandissime sconfitte. A fine giugno l'Austria fu sconfitta in una duplice battaglia Solferino e San Martino e a questo punto sembra che tutto vada per il meglio, però tutto non va per il meglio e adesso vi spiego perché. Napoleone III temeva che l'invasione del Veneto da parte dei franco piemontesi potesse spingere la Germania a entrare in guerra a fianco dell'Austria. Inoltre, in centro Italia, una serie di sollevazioni avevano portato alla cacciata dei governanti di Toscana, Modena, Parma e della Romagna. Quindi Napoleone III si spaventa. Oh caspita, questa guerra è molto più difficile di quello che pensavo. Oh caspita, il regno di Sardegna si allarga molto di più di quanto era previsto negli accordi di Plombier e a me Francia, non rimane una mazza. Napoleone III fa un terribile voltafaccia. 1859, senza avvertire i piemontesi, firma un armistizio a Villafranca, in Veneto, con l'Austria. Secondo gli accordi di Villafranca, l'Austria cedeva la Lombardia alla Francia, la quale poi la gira al regno di Sardegna. Il Granducato di Toscana e il Duca di Modena ritornano sui loro troni. Nizza e Savoia però almeno non sarebbero andate alla Francia. Ma la cosa grossa era questa, che Napoleone III si ritirava. Cavour imbestialito, inferocito, ma non può farci niente. È una fase di stallo, di pericolo della seconda guerra d'indipendenza, perché il Piemonte ha preso sì la Lombardia, ma tutto il resto rimane ancora esattamente come era prima. Cosa succederà? Lo scopriremo solo vivendo. Prossimo video. See you later, Alligator. In a while, Crocodile. Bye!